buonasera milano e milanisti cos'è successo è finito il culo ma non è finito il culo perché perdere solo di un gol con questa atalanta secondo me è poco perché l'atalanta meritava almeno un paio di gol di scarto per quello che si è visto in campo però vi do una bella notizia siccome quel ciuccio di calabria si è fatto espellere questa è una bella notizia per il milan quindi la prossima partita avrete magari un giocatore di calcio come terzino destro vediamo perché non so chi giocherà al posto di calabria che questo va detto che altro si può dire su sta partita e che telare ha giocato nel milan c'era la maglia dell'atalanta però praticamente ha giocato ancora nel milan perché io un gol così non lo ricordo c'è un gol sbagliato così davanti al portiere cos'era due metri dalla porta dentro l'area piccola una roba imbarazzante poi anche altre vacate un altro gol sbagliato ma alla fine ha fatto un assist quindi non lo so mi piacerebbe avere qualche commento di qualche amico dell'atalanta sulla prova di de che telare cioè alla fine più positivo più negativa secondo me comunque più negativa per gli errori sotto porta però era bello vispo bello vivo proprio come al milan e no ma il milan rigenera i giocatori rigenera tutti il milan vabbè dai condoglianze milanisti buona giornata